Mi hai chiesto perché voglio passare. Te lo dirò, ma non ti piacerà. Sei mesi fa abbiamo salvato il mondo a Meridiana, ma la minaccia c'è ancora. Peggiora ogni giorno, sempre di più. Scatena tempeste, avvelena le acque e fa impazzire le macchine. La causa si trova a Ovest. Solo io posso fermarla. Ho visto le tracce e ho saputo degli incredibili eventi accaduti a Meridiana. Un'armata di demoni, un'eroina dalla chioma rossa. Sono portato a crederti. Il peso del tuo incarico è scritto sul tuo volto, più chiaro dei miei segni. Ti darò questo come prova del tuo diritto di attraversare le terre The Night. Un incarico così gravoso e siete solo in due. Te lo dico in veste di aspirante diplomatico. Gli alleati sono fondamentali. Nessuno conosce l'Ovest come Ekarro. Lui può aiutarti. So che può mettere paura, ma cerca di guardare oltre. È un uomo di parola. Forse, se servirà. Come vuoi. Lo trovi nel suo palazzo, oltre le montagne sud-ovest. Digli che ti mando io. E vedrai che... Guardate! È il clan del cielo! Marescialli, non è stato facile, ma ho con me il clan del cielo. E il comandante? No. Non ne ho convinti tanti. Lui è ignaro di tutto. Abbiamo tutti e tre gli standardi. Non importa se il clan del cielo non è numeroso. Vero! Suonate il corno! Che cosa succede? Non tutti i Tenakt accettano l'idea di trattare con i Garza. Ma c'è il numero per iniziare. Allora mi incammino. No. Gli altri te lo vieteranno. Il tuo passaggio sicuro l'avrai dopo l'ambasciata. I Garza hanno aperto le porte. Sorto su una terra devastata dalla guerra, il sole tramonterà su una terra in pace. Questo è il giorno. Passaggio! Marescialli! Voi che vi definite Tenakt? Regal. Il più grosso sbaglio del capo e carro. Una sua rivale che doveva uccidere. Avete dimenticato che il nostro popolo è nato nel sangue? Il sangue dei Garza! Siete arrivati al punto di affidare le lance a un capo che cospira col nemico! E carro ci ha traditi! L'ambasciata lo prova! E tutti voi, marescialli, ne siete condici! Per questo io vi condanno alla morte! Le tue vane minacce non saranno sufficienti a intimidirci! Esule! Lanceri! Formazione! Cavalcano macchine! Ma dove l'hanno imparato? Silence. Fasciav! Vieni con noi ora, o mai più! Arcieri! Inceneriteli! Arcieri! Respingeteli! Arcieri! Respingeteli! A sinistra! Vedete quei karja? Abbabbeteli! Non ce la faranno mai! Aprite le porte! Aprite le porte! Aprite le porte! Aprite le porte! Torcio! Resistete! Fuoco! Fuoco! Non riesco a mirare! Oh no! Che succede? Cosa vedi? Restiamo solo noi Ehi! Vieni qui! Battiti con l'onore! Lanceri! Muoversi al centro! Tutti pronti! Al riparo! Arcieri sul crinale! I copi fulminanti sono qui Arrivano! Non riusciranno a fermarmi! Concentratevi sul cavallia macchina! E' stata colpita! Voi, prendete l'unico! Cuo' di voi! Sì! 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 Un'affreddita! Un altro creditone ucciso! Un'affreddita! Teniamo duro! No! Un'affreddita! Siamo in massimo in due danni! Se la faremo! Un'affreddita! 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 Sono fuori da fuori! A presto! Grazie a tutti.